Ducati aveva preso una direzione con la Z16RR, che era una replica di MotoGP, che poi è stata anche imitata da qualche altra casa, invece adesso la direzione che è stata presa poi negli anni successivi, come ormai negli ultimi dieci anni, è stata quella di una versione estrema del concetto della moto stradale. Ancora un po' di commento su questa differenza? L'esercizio della Z16 era un esercizio stand alone, in un tempo in cui avevamo preso una direzione di un certo tipo. L'evoluzione che abbiamo avuto nella gamma Superbike, specie partendo dall'1199, già il 1098 era un progetto già challenging, però dal 1098-1198 e poi con le generazioni Panigale l'evoluzione è stata quella di mantenerci indirizzato sulla moto di serie, per una serie di ragioni, perché ritenevamo che fosse più attinente a poter poi sfruttare le soluzioni tecniche e tecnologiche che mettiamo sul top di gamma e portarli gli anni successivi sulla gamma più ad uso comune. L'altro fattore è che una MotoGP diventa vecchia nel momento in cui tu inizi a svilupparla, perché ogni anno i cambi regolamentari hanno fatto sì che le moto cambiassero in maniera drastica, per cui l'ipotesi di fare una replica, uscire sul mercato con una replica che era già di una moto di un anno precedente o due anni precedenti, in quel momento non aveva sembrata vincente. Perché? Perché poi per sviluppare sulla versione stradale un moto di questo genere c'è bisogno di un lasso di tempo che è di almeno tre anni. Quindi il ritardo con il quale saremmo entrati a fare una replica non era, non è stato ritenuto un ritardo corretto. Un mondo che corre. Esatto. Poi l'altra cosa che ti volevo chiedere, l'accento è sulla leggerezza, ci sono state delle modifiche anche al motore, però quello che forse va sottolineato è che non è semplicemente una moto più leggera, è una moto anche piuttosto diversa dal punto di vista delle quote, come ci hai spiegato prima, e che quindi ha un bilanciamento un po' diverso per poter sfruttare queste prestazioni che derivano da un diverso rapporto a peso potenza. Ti commenti rapidamente le scelte più importanti. La scelta sostanziale è stata quella di un allungamento del forciano posteriore, quindi un interasse della moto allungato di 11 mm, quindi passiamo dal 1469 al 1480 mm di interasse per consentire una migliore trazione. La geometria di sterzo è sostanzialmente invariata rispetto a quella della famiglia Panigale, per cui il punto sostanziale è quello che abbiamo già detto. La moto poi ha delle masse sostanzialmente diverse, per cui sia le masse che le rigidezze a terra che la moto traspette sono diverse rispetto alla moto di serie, perché l'utilizzo principalmente su telaio e forcellone di componenti in fibra di carbonio fanno sì che il modo con cui si trasmettono le rigidezze a terra e quindi il pneumatico reagisce alle sollecitazioni sia sostanzialmente diverso. Quindi è un'esperienza di guida non solo per l'appendice aerodinamica e per la veste aerodinamica della moto, ma anche per la ciclistica in sé sostanzialmente diversa rispetto a quella di una Panigale V4, anche per l'inversione R. Ultima cosa che ti volevo chiedere, il motore si caratterizza per questo bellissimo scarico a Krapovic che è responsabile da un lato dell'alleggerimento e dall'altro dell'aumento di potenza, ma anche per la frazione a secco che torna, diciamo, a grande richiesta. Sono a Ducati, era stata abbandonata qualche anno fa in favore delle tradizionali funzioni di bagno d'olio, ma tutti gli appassionati Ducati ricordano ancora il classico rumore delle frazioni a secco di un tempo. Essendo questa moto un dimostratore tecnologico, è possibile che rivedremo questo componente anche su altre moto in futuro? Ci sono tipi di moto, moto spinte per uso pista è possibile, riteniamo però per moto di utilizzo stradale con una necessità di affidabilità e resa chilometrica più elevata, la frizione in bagno d'olio e l'evoluzione delle frizioni in bagno d'olio siano ancora una soluzione che dà maggiori garanzie e costanza di prestazione. Ok, va bene, grazie mille, a Cristiano Pespaio. Siamo con il Edoardo, l'ingegnere del rapporto corse che segue la parte aerodinamica e che si è occupato anche della definizione delle ali e delle superfici che caratterizzano la superleggera, quindi ci dà una rapida descrizione di cosa è stato fatto su questa moto. Allora, il lavoro che è stato fatto è stato prendere fisicamente quelle che erano le geometrie della GP16, quindi della nostra MotoGP che ha corso in configurazione a fine dell'anno 2016 e riproporla su questo bodywork di derivazione panigale V4R. Quello che abbiamo fatto è riprendere le geometrie e leggermente modificarle perché chiaramente la forma della carinatura è diversa rispetto alla carinatura MotoGP e quindi questo ha implicato il dover risistemare un po' i profili e riallinearli con le direzioni del flusso locale. Quest'operazione è stata svolta in termini di simulazione aerodinamica computer, quindi utilizzando il workflow CFD che viene usato in MotoGP appunto per lo sviluppo delle nostre carinature. Come si può vedere la forma è abbastanza particolare, pur essendo quella, ed è dovuta un po' a quello che permettevano di fare i regolamenti nel 2016, quindi non c'è più, all'epoca non c'era più necessità di, non c'era ancora scusate necessità di avere quei profili chiusi a forma di C che si vedono adesso ormai dal 2017 in MotoGP, ma effettivamente quella che è l'ala di un aeroplano, chiaramente montata a rovescio, è possibile montarla anche su un veicolo terrestre. La configurazione a biplano, quindi il top side pod che è appunto l'ala superiore, presenta una doppia rastremazione, come si vede c'è infatti una discontinuità in corda di questa parte dei profili, c'è una strake che è questo elemento, questo pannello laterale che funziona come sostanzialmente un generatore di vortici. L'estremità è realizzata con un endplate che anche lui presenta una forma particolare in vista frontale e due elementi esterni sul tip dell'ala, anche loro finalizzati alla generazione di carico verticale. Per quanto riguarda invece l'ala inferiore, questa è un'ala in configurazione main flap, quindi un'ala ipersostentata, la cui bandella laterale è fessurata. Questa configurazione rispetto alla panigale V4, 20-20, è in grado di generare 20 kg di forza verticale in più rispetto alla panigale. Come si usano due ali così diverse? Perché interferscono fra di loro? Ma la forma delle ali diciamo che ha preso direzioni diverse, nel senso che in questo caso si è quest'ala superiore genera magari delle vorticosità che hanno una certa direzione e quindi abbiamo voluto che non interferissero rispetto a una forma dell'ala inferiore che invece è un po' più lineare e un po' più, come posso dire, regolare. Nella realtà poi molto dipende anche dal tempo che viene speso per sviluppare i singoli componenti, nel senso che quest'ala, quindi l'ala superiore rispetto all'inferiore, è anche posizionata più avanti e quindi l'effetto sul carico anteriore è predominante e quindi si è cercato di spendere più tempo dettagliando la forma di quell'oggetto rispetto all'ala inferiore che è un po' più arretrata e quindi in termini di momento anti-impegnamento lavora un po' di meno. Un po' di meno, ok, molto chiaro, va bene. Ricordiamo anche che la super leggera parte della R, quindi ha questa carena che è stata allargata sia nella parte del cupolino che nella parte delle pance, per migliorare l'inserimento del pilota nel flusso dell'aria, quindi per proteggere, per ridurre da una parte l'effetto di drag, di freno aerodinamico e dall'altra parte per migliorare anche il comfort del pilota a bordo e si traduce una migliore prestazione. 1992, la storia delle Ducati leggere comincia da qua con la 900 SS Super Light, una versione vedete praticamente di serie della 900 Super Sport, siamo lontani dagli estremi delle super leggera V4 di oggi, il telaio bianco tipico della gestione Cajiva che era proprietaria del marchio in quegli anni e solo alcuni componenti alleggeriti, in particolare questi cerchi bicomponente, alluminio e magnesio e alcune parti in febbre di carbonio. Il risparmio era limitato, ma questa è la madre di tutte le Ducati leggere, quindi diciamo una parte della storia che raccontiamo oggi è iniziata con questo modello.